Simona Toni! Prego! Benvenuta! Live to tell, Madonna! Sempre negli anni Ottanta siamo? Sì. Viva per raccontare, un po' come la mia storia. Tu vivi per raccontare? Beh, penso che raccontare la mia storia sia una testimonianza importante e significativa. Sì, sempre bene. Quando l'hai capito che dovevi raccontarla? Beh, diciamo che io non mi sono fondamentalmente mai nascosta. Quindi ho sempre voluto proprio raccontare quella che sono, anche se chiaramente la scelta che ho fatto non è stata una scelta facile, è stata una scelta irreversibile, a tratti bellissima, ma a tratti dolorosa, soprattutto anche per la mia famiglia. È una storia davvero emozionante perché Simona è una bellissima donna, fa la make-up artist, si dice così? Sì, make-up artist. Quindi valorizza con il trucco e con la sua sapienza. Io ho anche una rubrica di trucco a bellezza. La sua bellezza, quindi insomma una donna di successo, elegantissima, bellissima, ma c'è una foto, l'unica foto. Sì. Vero che è l'unica? È l'unica foto che ho ottenuto. Che ci ricorda che Simona, quando è nata, era Simone, la vediamo. Cosa facevi in questa foto? Era Sesto Fiorentino, ero con la mia famiglia, con i miei nonni, i miei genitori, mia zia, era a Carnevale e questa foto mi fa tanta tenerezza perché vedo un bambino, Simone, con un sorriso sincero, con un sorriso vero, perché ancora non immaginavo quello che sarebbe successo dopo. Simona, adesso devo mandare la pubblicità e per ora restate con noi perché la tua è una storia di grandi risalite, è la storia del percorso che ognuno di noi compie per essere se stesso, per qualcuno è più semplice, per qualcuno è più difficile, ma tutti ci dobbiamo arrivare, pubblicità e dopo con Simona Toni. Siamo qui con Simona per raccontare la sua storia di transizione e tu sei nata a Reggio Emilia, poi sei cresciuta a Foligno, poi hai girato tutta l'Europa anche per la tua professione e siamo partiti dalla foto del piccolo Simone che tu dici ancora non conosceva la cattiveria che il resto del mondo può riservare a chi è nato in un corpo sbagliato. Simone con questo bel sorrisino, con questo bel sorrisone innocente, come eri poi anche dopo ovviamente, ma che cosa succedeva a scuola e quando hai cominciato a capire che c'era qualcosa di diverso, possiamo dirlo, poi siamo tutti diversi, però c'è qualcuno che viene fatto sentire diverso più degli altri. Diciamo che già alle scuole elementari io ho iniziato a capire che c'era qualcosa di diverso in me rispetto agli altri bambini, soltanto che logicamente non sapevo con chi confidarmi, con chi parlarne e poi quando sei piccola tu in qualche modo non vuoi deludere i tuoi genitori, quindi io sapevo che se avessi detto qualcosa di così particolare ai miei genitori probabilmente li avrei delusi e quindi tenevo tutto per me. Cosa intendi per qualcosa di, capivo che ero diversa dagli altri, no? Alla scuola elementare, fammi qualche esempio, anche perché magari aiutiamo le persone a casa a riconoscersi, no? Perché per esempio, non so, io volevo i capelli lunghi, avrei voluto il grembiule rosa, oppure chiedevo per esempio a mia mamma, a mia nonna una bambola come regalo e invece logicamente in famiglia i regali femminili erano vietati, erano permessi soltanto regali tipici da maschietto e quindi a un certo punto ho anche smesso di chiedere giocattoli femminili perché tanto sapevo che mi sarebbero stati negati, ma questa femminilità che evidentemente era molto forte, già veniva fuori e quindi, non so, in quarto o quinto elementare i bambini iniziavano già a chiamarmi femminuccia. In quarto e quinto elementare? Sì. E questa cosa ti feriva, ti sbalestrava, che tipo di reazione avevi? Beh, mi faceva male perché comunque capivo di non essere apprezzata, capivo che gli altri bambini comunque vedevano mai qualcosa di strano, io in qualche modo mi vergognavo, c'è stato un momento qualche anno dopo, non so per esempio le scuole medie, in cui io mi sono convinta di essere malata e quindi mi sono detta chissà, forse prima o poi guarirò e diventerò come le altre persone. A volte prima di addormentarmi pregavo e dicevo spero che domani mattina io mi sveglierò e sarò esattamente come le altre persone e naturalmente non è mai successo. E quando tu eri triste, abbattuta, non potendone parlare con i tuoi genitori perché mi sembra di capire che non temevi di dare loro un dispiacere, li proteggevi, quando eri tu che avevi bisogno di essere protetta, quindi un gesto di grande coraggio per una bambina. Con chi ne parlavi? Ma io in verità non avevo grandi rapporti e quindi diciamo che a liceo, in quarto superiore, ho confidato questa cosa a una compagna di classe, in realtà eravamo anche parenti per la verità e poi la mia famiglia l'ha saputo in questo modo. Cioè lei l'ha andata a dire ai tuoi genitori? L'ha raccontato alla sua famiglia, ai suoi genitori che poi dopo l'hanno raccontato al resto della famiglia. Quindi diciamo che i miei genitori l'hanno saputo in questo modo, non direttamente da me. E come hanno reagito? Beh, chiaramente non bene. Ma loro hanno saputo, perché tu immagino che tu pensassi di essere omosessuale? Inizialmente sì, credevo di essere omosessuale, anche perché ci sono arrivata per step, ma dopo qualche tempo mi sono resa conto che non ero omosessuale, perché non so, quando mi capitava di andare nei locali per gay, mi sentivo a disagio, mi sentivo un pesce fuori d'acqua e quindi mi dicevo ma io cosa sono, cosa voglio dalla vita? E non avendo altre figure di riferimento ho avuto difficoltà a capirlo. Senti facciamo un passo indietro, perché allora questa tua simpatica amica che poteva farsi gli affari suoi, che poi ti ha tradito, perché poi diciamo bisognerebbe sempre parlare con i genitori, io penso che sia una strada giusta. Beh, una cosa così importante forse avrei dovuto dire. Esatto, esatto, no? E quindi qua invece ti ha proprio tradito. E cosa c'era di male? Perché poi tu hai 44 anni, quindi non stiamo parlando della pre-storia, quando si parla di appunto omofobia generalizzata. Tu vieni da una famiglia peraltro di professionisti, insomma, un posto foligno che è un piccolo centro, ma non stiamo parlando dell'angolo più sperduto del mondo, ecco, siamo in Italia. Cosa c'era che non andava nel dire tua figlia, tuo figlio è omosessuale? Beh, considera però che 25 anni fa, in provincia, essere diversi era uno scandalo e pareva che io fossi l'unica persona omosessuale, perché in quel momento quello credevo di essere. Certo. E non so, io veramente ho subito atti di bullismo veramente feroci. A scuola, quando arrivavo a scuola erano cuori di insulti, oppure non so, se per esempio io uscivo per la ricreazione, magari rientravo e trovavo insulti scritti con l'unico osca sul banco, scritti sulla cartella. Magari per me e per la mia famiglia era anche complicato cambiare una cartella alla settimana, quindi ricordo che a volte sono anche dovuta andare a scuola con le toppe e la cartella perché non potevo ricomprarla ogni settimana. Ma non solo a scuola, anche per la città, venivo presa in giro, venivo insultata. E un giorno arrivano a fare una cosa tra osce, cioè a buttarti delle monete infuocate addosso? Sì. Mi ricordo che era inverno, forse dicembre o gennaio, e io stavo camminando per il centro di Foligno, per il corso, la via principale, come sempre un po' a testa bassa perché cercavo di non farmi notare. A un certo punto ho sentito qualcosa di duro sul viso e poi ho sentito la sensazione di calore. Quando ho sentito le monete cadere sull'asfalto, mi sono resa conto che mi avevano tirato delle monete e ho girato lo sguardo e ho visto dei ragazzi con i guanti e l'accendino che stavano scaldando queste monete e me le tiravano addosso. E io sinceramente sono impiegato qualche secondo a realizzare, a rendermi conto di quello che mi stavano facendo e mi sono detta ma io cosa ho fatto di male per meritarmi tutto questo? E quello forse è stato il momento in cui... Che risposta ti sei data? Che io non avevo fatto proprio niente di male. Li ha più rincontrati loro? Sì, immagino. Sì, sì. E che come... A volte vedo queste persone che abbassano gli occhi e credo sia al minimo. Fanno bene? Sì. E quindi tu a questo punto si innesca un meccanismo di reazione perché poi ho capito che insomma anche tu questa cosa l'hai raccontata a tua mamma, a tuo papà che ti avevano tirato le monete addosso? No. Perché no? Perché comunque loro già stavano soffrendo tanto. E non volevi caricarle. Esatto. Quindi parti, vai a Londra, a un certo punto un giorno incontri una persona che aveva questo... aveva intrapreso già un percorso di transizione che ti dice Simona, tu non sei Simone, sei Simona. Esatto. E quando me l'ha detto io a quel punto ho sentito una sorta di pace interiore perché ho capito che era quello il mio destino, il percorso che dovevo intraprendere. E questa volta l'hai detto ai tuoi genitori? L'ho detto ai miei genitori. A chi per primo? L'ho detto prima a mia mamma. Vilma. Mamma Vilma e poi insieme l'abbiamo detto a papà. E io veramente sono stata una persona fortunatissima perché se sono la persona che sono oggi io lo devo a mia madre, a mio padre che pur essendo due persone normalissime non mi hanno mai abbandonato nemmeno nei momenti più difficili, non mi hanno mai voltato le spalle, anzi mi hanno insegnato che essere diversi non è un handicap e mi hanno insegnato proprio anche a rispondere con indifferenza alla cattiveria delle persone. E hanno fatto anche dei sacrifici per consentirti? Dei grandi sacrifici anche a livello economico. Quando io mi sono sottoposta all'intervento di riattribuzione di sesso i miei genitori hanno anche proprio preso un finanziamento perché comunque è stato un intervento molto costoso per potermi aiutare. La mattina quando ti sei svegliata dopo l'intervento chi c'era con te? Che cosa hai pensato? Accanto al letto c'erano mia madre e mio padre a Barcellona con me. Ho pensato che ero fortunata perché tante donne che hanno intrapreso il mio stesso percorso non hanno avuto la stessa fortuna e ancora oggi il 70% delle giovani trans che fanno outing vengono abbandonate dalle loro famiglie e spesso l'alternativa diventa il marciapiede. Perché poi sì appunto c'è questa cosa puramente anche di scuola no? Come se ci fosse qualcosa che non va insomma esiste, si può risolvere perché no ecco. Tua mamma Vilma ti manda un messaggio. Ciao Simona, sai quanto sono timida e riservata ma oggi ci tenevo ad essere qui per dirti che nonostante tutte le difficoltà che abbiamo passato sono molto orgogliosa della donna che sei diventata. Vai sempre a testa alta, ti voglio tanto bene. Ciao. E papà Angelo? Che era quello che tu avevi? Avevamo un rapporto speciale. Mio padre era un uomo come tutti gli uomini da altri tempi, forse un tantino inaffettivo nel senso che non riusciva a esternare i propri sentimenti, però io sentivo che mi voleva bene, a me bastava la sua presenza, a volte bastava uno sguardo, io capivo che per lui era come dirmi ci sono e ti voglio bene. Noi figlie femmine con un papà abbiamo sempre un rapporto speciale, quasi sempre. So che tu gli sei stata anche accanto durante la sua malattia? Sì, purtroppo papà non c'è più. E qual è la cosa più bella e più profonda che vi siete detti secondo te? Ricordo che quando ho cambiato sesso lui mi ha chiesto ora sei felice? E io gli ho detto papà ora sì. E lui mi ha risposto semplicemente allora va tutto bene. E questo è il più bello dei doni che ci si possa dare reciprocamente, no? I miei genitori mi hanno dato la vita 45 anni fa e me l'hanno ridata 18 anni fa e questo non me lo potrò mai dimenticare, mai. Simona ti ringrazio di averci raccontato la tua storia. Grazie a voi. Perché non è mai semplicissimo immagino, però testimoniare è importante per dare anche così un abbraccio di solidarietà. Assolutamente. A chi vive quello che stai vivendo te, quello che hai vissuto te, che non è un capriccio, non è un mettersi un vestito rosa. Assolutamente no. Che può capitare a tanti bambini, a tante bambine, no? Insomma si gioca con... Ma anche per le famiglie. Magari a volte non sanno come interfacciarsi, come affrontare un percorso così complicato e anche così doloroso. E so che tu hai... sei stata la prima dama nel 2013 di Foligno alla giostra della Quintana. Esatto. Come vuol dire questo? Ti faccio un po' di orgoglio folignese. Praticamente la Quintana di Foligno è una corsa all'anello e rievocazione storica. Eccola, guarda che bellezza. Ma questa sei tu. Sono io. Con una meravigliosa acconciatura e un sapiente trucco. E sicuramente per me è stata una grande vittoria in una città che era stata così ostile, diciamo, nei miei confronti. Vi hai perdonati? Ma sì. Sì, perché comunque io capisco che le persone possono sbagliare. E quando ti trovi davanti qualcosa che esula dalla normalità, spesso non riesce ad agire nel modo giusto. E quindi poi mi ritengo una persona abbastanza matura e intelligente. Quindi ho perdonato. Ma non ho dimenticato, naturalmente. Ma è vero che qualcuno poi ci ha pure provato con te? Eh già. No, ovvio. Ovvio. Senti Jessica la bulla. Sì. Sì, ma naturalmente. Qualcuno di quelli che ti bullizzava? Assolutamente sì. E tu cosa gli hai detto? Beh, che poteva tornarsene a casa. Sta bene dove sta? Chiaramente con dei toni un po' meno gentili. Va bene, sì. Sempre gentili bisogna essere. Ti ringrazio per essere stata con noi. Viva Foligno. Viva la, come si chiama? La Giosta della Quintana. La Giosta della Quintana. Va bene. Un giorno voglio venire a vederla. Quando torni sul carro, vengo anch'io. Quando torni a sfilare vengo anch'io. Grazie mille per avermi invitata.